E' questo il primo weekend con le nuove norme dettate dal decreto Conte del 18 ottobre scorso, il cosiddetto decreto anti-movida. In attesa delle nuove disposizioni i sindaci sono chiamati a far rispettare le misure del governo ma resta sullo sfondo la richiesta più importante, aumentare i controlli. Abbiamo ascoltato sull'argomento il presidente Anci Puglia, Domenico Vitto, nonché il sindaco di Polignano a Mare. Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare, presidente dell'Anci Puglia. Presidente, innanzitutto, come ha ribadito il presidente De Caro, i sindaci non vogliono sottrarsi alle responsabilità a figurarsi in un momento di emergenza come questo. Come vi state regolando rispetto alle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 18 ottobre? Lei considera sia davvero uno scaricabarile rispetto alle responsabilità? Allora, innanzitutto, come dice bene il nostro presidente, noi non ci sottraiamo dalle nostre responsabilità però Antonio bene ha fatto a chiedere almeno i controlli che non sono a carico nostro perché sennò, ahimè, è dura controllare l'intero paese. Ieri abbiamo avuto un incontro a tutti i sindaci della città metropolitana, abbiamo deciso di essere cauti e innanzitutto capiamo in questo primo fine settimana che arriva dopo il nuovo DPCM come si comportano nelle varie cittadine e poi tentare di creare delle ordinanze comuni a tutti perché se ognuno di noi comincia a fare fuga in avanti, a fare ordinanze particolari rischiamo veramente di creare più problemi di quelli che abbiamo già. Presidente, di fatto i sindaci allora che cosa potranno fare e cosa invece non potranno fare? Quello che noi non possiamo fare, l'ha ribadito anche Antonio De Caro, è quello del controllo perché controllare alle 6 se nei bar stanno al bancone o sono seduti, quello di controllare alle 9 se tutti rispettano il DPCM, quello che possiamo fare è capire e individuare se realmente ci sono delle zone critiche dove si creano assembramenti e magari fare delle ordinanze ad hoc. Il momento è particolare non solo per questo tema, ma io questi giorni sto avendo anche incontri con la regione, con l'ufficio regionale scolastica per la questione dei trasporti scolastici, quindi ci sono parecchie questioni che vanno risolte e io spero che si risolvano in tempi rapidi. Ecco, sindaco, mi ha anticipato perché appunto le avrei chiesto proprio adesso quali sono gli sviluppi sul piano dei trasporti. Lei si è fatto appunto portavoce della richiesta di un intervento urgente presso la regione Puglia. Sì, io ho già scritto in regione ancora prima che cominciassero le scuole, perché se già negli anni scorsi c'erano problemi per il trasporto scolastico, figuriamoci quest'anno con il Covid. So che oggi il Presidente Emiliano ha scritto una nota al Ministero della Pubblica Istruzione per capire se noi chiedessimo di aumentare le corse e di differenziare gli orari, questo è possibile e quindi questa è una delle soluzioni che è in campo. Le città come quella che mi onoro di governare io sono quelle che più stanno soffrendo questo anche ultimo di PCM. Si devono comportare nel rispetto delle regole, se no ahimè noi saremo costretti a prendere provvedimenti più restrittivi.